Il musulmano non dovrebbe andare in discoteca perché in discoteca per esempio si beve, si può fare una cosa che Dio non vuole, per esempio bere, incontrarsi con tante donne e fare per esempio dei peccati, e altro, la musica forse è troppo alta, può dare fastidio anche alla persona stessa, e poi un ambiente dove il musulmano non può vivere la sua islamicità, cioè non può vivere il suo, il suo personale di essere positivo in una discoteca, ad esempio in una discoteca adesso, in qualsiasi discoteca trovi sempre la droga per esempio, Noi come musulmani la droga non la possiamo prendere, ma non penso neanche che i cristiani possano prendere la droga, e si può imparare a diventare una persona negativa perché da lì si può andare a fare molto di peggio, cioè come primo inizio parte la discoteca a fare di peggio.